Due anni fa in Italia, sul Lago Maggiore, lo scorso anno a Malta, quest'anno è Madrid ad ospitare l'Assemblea Generale dell'ECG, l'Associazione Europea della Logistica dei Veicoli. Siamo alla Puerta del Sole, nel cuore di Madrid. A poche centinaia di metri da qua c'è il Grand Hotel Lesperia che ospita l'appuntamento. Si tratta di una convention che è attesa da una parte per il rinnovo delle cariche, l'approvazione del bilancio 2017 e del budget 2018 di un'associazione che riunisce aziende europee ed enti che lavorano ed operano nel settore automotive, dall'altra per la possibilità di ascoltare relazioni ed interventi di esperti sull'evoluzione della logistica, della mobilità e dei trasporti, nel mondo e nel vecchio continente. L'inizio dell'Assemblea serve per votare la conferma di Wolfgang Goebel alla Presidenza. Innanzitutto complimenti per la rielezione. Sì, grazie, sono molto felice, grazie naturalmente per le congratulazioni. Come considera l'ultimo anno dell'associazione? Abbiamo lavorato duramente su molti punti, abbiamo avuto un gruppo che ha seguito il tema della digitalizzazione, abbiamo prestato poi molta attenzione sul tema della qualità e alla questione legata alla salute e alla sicurezza. abbiamo dato un supporto alle aziende che fanno parte di ECG, soprattutto per quanto riguarda alcuni problemi come quello della carenza di autisti. Quali saranno gli obiettivi del prossimo anno? Con il nuovo consiglio che abbiamo formato ci sono varie sfide da affrontare, una di queste è quella che riguarda il carico fiscale che aumenta, soprattutto in Germania, dove sono previsti degli aumenti del 50% e oltre. 12 nuovi membri negli ultimi 12 mesi, un bel risultato? Sì, direi di sì che è un ottimo risultato, è un consolidamento dell'associazione. Ci sono stati dei membri che sono stati inglobati da altri soci di ECG, ma questo non fa altro che rendere più forte l'associazione. Poi ecco l'occasione di incontrare alcuni operatori che ci danno la dimensione di quanto siano strategiche il settore automotive e la logistica dei veicoli. Alberto Picco è il direttore commerciale della Rolfo SPA e ricordiamo che questa azienda ha una storia di oltre 130 anni ed ora è leader mondiale nell'estimento di trasporti per veicoli. La presenza qua a questo appuntamento spagnolo per capire anche un po' l'andamento del mercato e per farsi trovare pronti. Sempre, sì esatto. Anche quest'anno siamo qui, siamo una presenza consolidata all'interno dell'ECG, siamo anche i fondatori dell'ECG, un progetto che è partito oltre 25 anni fa per sostenere il trend e gli interessi del nostro settore, che è un piccolo club ma molto rappresentativo e molto importante anche perché alla fin fine tutte le vetture che vengono guidate e che sono per strada ogni giorno vengono trasportate dai soci dell'associazione. Siamo qui per vedere appunto quali sono i trend sul mercato e capire quali sono le sfide che ci aspettano nei prossimi anni, sicuramente l'elettrico, l'ibrido, mancanza di autisti, quindi siamo qua per seguire i nostri clienti e il mercato. Naturalmente una storia di 130 anni come la vostra vuol dire aver saggiato quello che è successo in Europa per tanto tempo, forse l'Italia da questo punto di vista, forse si è vista anche superare da qualche paese, però reagisce, reagisce il nostro paese. Sì, teniamo duro, l'azienda è uno dei pochi esempi in Italia che continua a essere un'azienda familiare, quindi non è solo un brand, lo diciamo sempre, c'è la famiglia, c'è molte generazioni, adesso abbiamo la nuova generazione che sta entrando nel business, ci crediamo tutti, quindi siamo molto molto motivati. La posizione che abbiamo non è regalata, bisogna ottenerla ogni giorno, bisogna battersi, però abbiamo come Sistema Italia, come azienda italiana, abbiamo tutte le possibilità di far bene, ci vuole solo impegno ogni giorno, pancia a terra lavorare.